Si è scappato un mezzo sorriso, pensavi a tuo fratello? Vi siete sentiti, vi siete presi un po' in giro nella partita? No, ci sentiamo tutti i giorni al di là della partita, però questa è stata una settimana un po' particolare. Sarà una bella emozione perché è la prima volta che giochiamo contro, però ora lui deve difendere il Benevento, io e Napoli. Per poco saremo tra virgolette nemici, però speriamo che sia una bella gara e vincere il migliore. Hai detto una settimana particolare, lo è stato, sono giorni particolari per Napoli e per tutta la Campania. Ti chiedo soprattutto a te se oggi ancora di più rispetto alle altre volte non giochi solo per il Napoli, ma anche per Napoli. Sì, questo sì, sono stato sempre vicino alla città, anche nel primo lockdown. Ho cercato di dare una mano insieme a tutti i napoletani perché è giusto che sia così. Noi oggi speriamo di regalare un sorriso a queste persone e speriamo che tutto questo, non solo per Napoli, ma per tutti, finisca al più presto.